Ben trovati da Tg della mobilità, tornano in strada alle 16 le linee S per il turno pomeridiano di servizio. Le linee S sono collegamenti speciali dalla periferia al centro a supporto degli spostamenti degli studenti. Gli orari del servizio sono dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19, da lunedì al venerdì, solo al mattino. Il sabato tra le linee S potenziata la S03 Bellearti con passaggi ogni 4 minuti, mentre la nuova S15 a Ciglia Piramide è nata per favorire gli utenti della ferrovia Roma Lido.